...e' difficile comprimere in pochi minuti, come vorrei fare, un'esperienza che ha un grosso retroterra e anche un'avventura che ci ha accompagnato da 2011-2012 in qua. E' un'associazione e anche una cooperativa che nasce come gruppo di acquisto e poi si sviluppa negli anni 2008-2009 in poi anche come agenzia soggetto di promozione di eventi sul territorio, in particolare per l'area dei colli iberici legando l'area a proposte di consumo critico e di scoperta del territorio, realtà che lungo il cammino si è trovata subito a sentire l'esigenza forte di passare dal ruolo di consumatori, gasisti e propositori di eventi di mercato, soprattutto di scambio mercatale, a entrare nel territorio, a entrarci camminando, a entrarci scoprendo entrarci andando a parlare con chi ci lavora. Quindi prima siamo partiti con delle visite aziendali, con delle istruzioni sui colli iberici, brevi, in mezza giornata in concomitanza con i vari eventi, poi appunto nel 2012 abbiamo fatto un buon salto e abbiamo pensato di fare una cosa che poi per i colli iberici non era così scontata, un trekking di tre giorni. Non c'è una grande ricettività sui berici dal punto di vista dei pernottamenti, ci siamo arrangiati un po' per due notti come abbiamo potuto, però ecco con questo e con l'anno successivo, cioè l'anno scorso un'esperienza invece di quattro giorni da San Vito di Leuzzano a Monteviale attraverso il Topiano del Faedo Valle dell'Agno e Colli Castellari, esperienza che si intitolava Castelli in Aria, quindi con delle suggestioni anche letterarie che si rifacevano a Henry David Toro, ecco abbiamo tentato di inaugurare proprio un percorso politico basato sul camminare, quindi non solamente un escursionismo di godimento ma come se era partito all'inizio un escursionismo di scoperta. Quindi alimentandoci anche di riferimenti su una base associativa ampia e su esperienze anche piuttosto ampie abbiamo cominciato anche a sparare delle parole un po' impegnative che però avevamo ben chiare come anelito che sono appunto queste tessere delle nuove geografie riscrivere delle geografie ufficiali attraverso canoni nostri, cioè uscire nel territorio per riscriverlo soggettivamente quindi recuperare nuove letture grazie anche alle relazioni che si installano nel camminare e anche al progetto stesso dell'esperienza, perché anche il progettare eventi di questo tipo in chiave sostanzialmente volontaristica impegna molto e però rende anche coesi chi partecipa a questa progettazione ecco, su tutto sicuramente era individuata l'esigenza di una mappatura, di una lettura scoprire, indagare, mappare il piccolo e il vicino, perché dalla nostra matrice di gas e quindi dal nostro riferimento a territori di prossimità, di vicinanza, nasceva anche questa esigenza perché portare la focale da ampia a piccola, a vicina e vedere se c'erano, ci sono e ci saranno dei segni anche piccoli di un cambiamento nell'economia e nelle pratiche di territorio gli incontri, questa è una foto relativa al trekking dell'anno scorso in una contrada della montagna valdagnese, gli incontri sono importantissimi molti sono programmati e molti sono invece imprevisti e sono anche forse più belli qui abbiamo passato quasi due ore in questa piccola corte di questa contrada e lì si è aperto un po' un rapporto anche con gli abitanti quindi si instaurano delle relazioni che poi sono il succo stesso di tante cose che ti porti a casa ecco, abbiamo deciso comunque di non sfuggire, di non fare un'esperienza estetica ma di non sfuggire nemmeno il brutto e il degradato quindi cercare di mappare per percepire anche le derive patologiche naturalmente su questo nel nostro territorio c'è una scelta praticamente infinita cioè il fatto di non volerle sfuggire è un emefemismo nel senso che è difficile le economie nei territori che abbiamo attraversato a seconda dei casi ci sono economie vitali e ci sono anche delle economie decadenti o perdenti che derivano da vicende di storia recente, di montagna soprattutto ma lo spirito è sempre quello comunque di attraverso delle mediazioni locali di comprendere anche degli elementi di sconfitta economica in certi casi magari solo di criticità che possono anche avere dei margini di recupero poi c'è la questione della biodiversità ecco, il professor Valerani prima parlava di ecosistemi, della loro funzionalità che spesso non è facilmente compresa al di là del fatto naturalistico stretto quindi siamo spesso abituati a pensare al valore naturalistico come rarità di una specie o particolarità di una specie vegetale o animale un po' più difficilmente per questioni di formazione culturale, media difficilmente siamo portati invece a ragionare come ecosistema che comprende anche tutte le implicazioni umane del lavoro, dell'economia quindi in un quadro molto complesso naturalmente si parte un po' se si parte da livelli elementari si deve procedere con gradualità l'impatto e il fascino di una biodiversità minuta anche qui piccola e vicina dei nostri boschi se spiegata, se veicolata bene ecco, è già un passo importantissimo per apprezzare questo tipo di valori e da biodiversità il passo è abbastanza breve a una bellezza noi abbiamo degli ecosistemi nelle nostre colline e montagne che sono quasi totalmente ecosistemi di derivazione umana quindi è natura natura lavorata natura gestita che però porta a una considerazione di bellezza che molti autori che si rifanno il paesaggio agrario hanno descritto in questa frase tratta da una pubblicazione recente c'è una bella espressione che è quella di un esito di sovrabbondanza di bello che va oltre l'effetto del produrre quindi una specie di sottoprodotto involontario una bellezza non progettata il lavoro dell'uomo ci può fornire quindi c'è la possibilità percorrendo i nostri territori molte volte compare questa possibilità di leggere il paesaggio lavorato in genere tutti i territori italiani e quindi la differenza tra questa situazione e questa concettualmente non è molto distante da dove già secoli fa si attribuiva al buon governo economico e politico di un territorio ma qui trafigurato attraverso una diversificazione ordinata di culture si attribuiva anche automaticamente un significato di benessere poi questa questione del camminare ci ha portato gradualmente verso altre sensazioni quella della libertà di mettersi in cammino c'è un tratto di poesia di Eri De Luca sembra quasi da figurare il fatto della libertà racchiusa negli elementi anche più semplici della natura come un seme e queste sono questa ed altre sono cose che andando in natura a camminare si percepiscono molto chiaramente quindi a un certo punto bisogna comunque prendere un bastone prendere degli scarponi e mettersi a camminare e non a parlare di camminare quindi dietro a queste nostre esperienze ci sono anche dei valori come l'essenzialità che va bene vale per lo zaino concreto perché è bene non portarsi troppi pesi ma vale anche per i concetti io nello zaino posso rinunciare a una cosa concreta per avere meno peso ma accettare il peso in più di un libro dipende da che scala di valori vediamo la nostra essenzialità e dipende da cosa vogliamo portarci davvero insieme per andare sull'ambiente anche qui la questione della vicinanza dell'apprezzare il vicino da teorica diventa diventa veramente concreta questa è una frase di Henry David Toro è un autore che a noi è molto caro e dice cose che sono anche ovvie se vogliamo in questo nostro universo antropizzato che in due o tre ore di cammino magari anche una, anche mezz'ora qualche volta ci possono portare in luoghi straordinari a due passi dalla città diffusa il camminare porta con sé un'imprevedibilità si parte da un presupposto ma gli esiti non sono quasi mai poi prevedibili qui questa foto mi piace perché raffigura un po' anche quella coesione e quella complicità che si forma nel camminare in gruppo l'anno scorso in una tappa abbiamo fatto quasi dieci ore di trasferimento di cui almeno sette sotto la pioggia questa è stata fatta verso la fine vedete nessuno in tutti i contenti in tutti quanti contenti nessuno che si è sentito trascurato lasciato indietro ecco quindi c'è una forza del gruppo nel camminare che come dire aiuta e predispone anche poi alle scoperte che si vanno a fare scene di questo tipo anche dimostrano che gli incontri non sono solo umani ecco la fatica che non nel senso giustamente stigmatizzato da Valerani prima la fatica della super prestazione ma la fatica che ti tocca fare perché la subisci è un elemento che poi insieme però al sollievo dell'arrivo del riposo libera in maniera catartica ti rende più capace di attuare un libero esercizio dei sensi un po' fra di un po' effetto quindi il percorso che può essere politico perché ti prefigli degli obiettivi di scoperta e di ricerca si materializza così alla fine si materializza anche nella fatica e nella nella bellezza di arrivare e di sedersi consumato a riposare ecco se il portato poi di queste di queste esperienze è quello di capire poi se c'è una progettualità possibile soprattutto con progetti alternativi davvero che siano però carati su una peculiarità dei territori questo è un paradosso se ci pensiamo bene cioè l'alternativa è la peculiarità diventa la peculiarità che dovrebbe essere invece fatto normale uno sviluppo e idee progettuali sul territorio in base alle peculiarità invece adesso sta diventando l'alternativa perché troppo spesso le proposte del territorio non sono state secondo le peculiarità questa è un'altra frase storica per i nostri trekking che è emersa il primo anno e che sintetizza poi un'ecologia umana alla fine questa frase tribale di un'etnia del Congo esprime veramente quello che è il senso di come ci si dovrebbe porre in un territorio cioè in un territorio lo abitiamo ma dobbiamo essere capaci di abitarlo e quindi questa popolazione che attribuiva la divinità la facoltà di insegnare ad abitare questa è l'ecologia umana nei livelli più puri e poi finiscono i trekking 2012-2013 ma la storia continua perché ci portiamo dietro altre considerazioni quella del cambio continuo dei punti di vista il signor Palomar di Calvino come vedete crede di essere riuscito a vedere tutto quello che poteva vedere dal suo punto di osservazione ma poi c'è sempre qualcosa di cui non si tiene conto e alla fine si capisce che bisogna ricominciare a camminare bisogna ritornare per vedere in primavera quello che si è visto d'estate o di giorno quello che si è visto di notte o con il sole magari si spera dove la prima volta pioveva quindi bisogna ritornare sui passi ritracciare nuovi cammini e ricominciare il viaggio perché se di scoperta e di ricerca si vuole parlare questa è la via quest'anno si parte da una suggestione che adesso Mirko sicuramente vi spiegherà molto bene che è quella delle grandi stelle dell'orsa e che ci introduce al tracking allora che ci sono Grazie.